il riciclo creativo si arricchisce di altri materiali anche la gomma come ad esempio questo piano inferiore fatto in gran parte di copertoni piano superiore ancora da completare ma che comunque già regge una persona adesso magari vado anche su il giro qua sopra ok siamo il giro qua sopra e qua già si vede che ci si può stare in piedi senza problemi e poi farò un rinforzo ulteriore per poterci camminare con più sicurezza anche persone magari di qualche chilo in più torno giù qui il particolare della cintura di sicurezza di una vecchia cintura di sicurezza usata in quel modo giusto perché con i copertoni come base le oscillazioni sono all'ordine del giorno per cui quella parete di landra fatta un po più mobile ecco gli altri pezzi della cintura lì sotto recuperati sempre da una officina e poi di là il muro continua il muro perimetrale pian piano si arriverà anche un po più in alto bene questo per ora mi fermo a qui c'è un pezzo di pista d'atletica dismesso ne ho qualcun altro da sistemare quello poi si vedrà come come utilizzarlo e vari altri pezzi di legno l'alluminio penso che alla fine non lo userò qua sarà più da riciclare bene mi fermo e vi do appuntamento al prossimo stralcio dei lavori e vi do appuntamento al prossimo stralcio dei lavori